E' stato approvato in maniera unanime nell'ultimo Consiglio Comunale il regolamento per la disciplina della compensazione e ratizzazione dei tributi comunali di Sant'Omero, uno strumento fondamentale che consentirà ai cittadini e alle imprese del territorio che si trovano in condizioni di difficoltà economica e che rientrano nei requisiti previsti dal regolamento di poter diluire le imposte comunali fino ad un massimo di 18 rate mensili. Altra importante novità prevista nel regolamento è quella della compensazione possibile in tre casi diversi. Quella per lo stesso tributo, quella per i tribuni diversi e quella sicuramente più innovativa tra debiti dell'ente locale e debiti tributari. Soddisfazione viene espressa nella circostanza dal sindaco di Sant'Omero Andrea Luzzi il quale ha dichiarato che è la prima volta che l'ente si dota di un regolamento così importante adottato al fine di stabilire un nuovo rapporto di collaborazione e di disponibilità nei confronti dei contribuenti consapevoli del momento di crisi generale che stiamo attraversando. Vogliamo inoltre, dice ancora, dare l'occasione ai soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o prestazioni di servizi di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle tasse al loro carico, nell'ottica per cui il debito del Comune è certo mentre l'entrata tributaria è incerta. Stiamo lavorando, dice ancora Luzzi, per cercare di alleggerire il carico fiscale sui nostri cittadini e in tal senso, nonostante le difficoltà economiche ormai note, la Tari per l'anno 2016 è stata mantenuta intatta mentre sono state abbassate in maniera significativa le tariffe del trasporto scolastico.